V-vunx defilcente Ma come si fa io? Chi ha questo film più che non lo io? Io non ho capito Perché non posso mettere punti canale io? Perché? Chi è sta macchina? Punti canale? E mi dice che non è permesso E poi mi dice che deve essere affiliato Bravigli Deve essere affiliato? Deve essere affiliato mi dice Che significato? Affiliato Ma lo sai Che senso sponsorizzato Ah Io l'aspetta Hai un liar che finisce blog Adesso almeno poi mi Mi sub Lo sto nel video Ti sabbi? Si almeno poi sto nel video E uso E abbono Tanto c'è Amazon Prime E' un apponamento gratis Aaaaaah E che? Mengia Mengia Amazon Prime Cioè Cos'hai finito? E' un apponamento gratis E' un apponamento gratis Wow